Studenti, precari, lavoratori dello spettacolo, riuniti questa mattina in piazza per esprimere il loro disappunto e la loro protesta nei confronti del governo per le ultime misure prese. Le Marche da ieri, Regione Arancione, quindi ancora di più sotto stress e soprattutto ascolteremo la voce di coloro che frequentano la scuola, coloro che sono stati privati di una formazione e sono stati costretti soltanto a delle valutazioni come sicuramente esprimeranno più tardi nei loro interventi. Questa manifestazione è partita in primis da un'esigenza studentesca che poi appunto si è stesa in tutte le scuole di Pesaro e abbiamo deciso anche di coinvolgere i lavoratori perché noi ci sentivamo assolutamente colpiti dalla crisi ma sicuramente non eravamo gli unici, non siamo gli unici. Contrarissimi quindi alla didattica a distanza? Contrari alla didattica a distanza fino a un certo punto comprendiamo lo stato emergenziale e infatti secondo noi la didattica a distanza è appunto un tipo di didattica da usare in uno stato di emergenza, di nuovo un'emergenza che poteva essere evitata e sicuramente la didattica a distanza non garantisce il diritto allo studio e quindi chiediamo al governo nuove riforme, chiediamo al governo un potenziamento delle strutture scolastiche, basta tagliare la scuola, anzi investire sempre di più nell'istruzione per cercare di tornare in presenza il prima possibile. La manifestazione di oggi è per rappresentare tutte quelle categorie di lavoratori che negli ultimi anni sono stati creati attraverso le varie riforme del lavoro che hanno smantellato i diritti dei lavoratori e quindi l'apice è raggiunto con il job act e quella di oggi è una manifestazione per rappresentare la condizione a cui sono costrette le nuove generazioni che sono coloro che negli ultimi anni sono costretti a pagare le crisi economiche. Quella di oggi, la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria potrebbe rappresentare la crisi più grande negli ultimi anni e le decisioni istituzionali propongono sempre la stessa ricetta e cioè far pagare questa crisi alle nuove generazioni e ai lavoratori più precari.